Bella a tutti ragazzi, nuovo video Clash Royale Andremo a fare il torneo doppia evoluzione Proviamo a vedere dove arriviamo Prima andiamo a riscattare qui il baule gratuito Mago, torre bombardiera, archieri Sgherri Terremoto Buono la strega Per un giallo il leggendario 2 ore e 49 Poi abbiamo gratis Un gettone di scambio leggendario Quindi Apriamo questo baule d'oro Mettiamo a sbloccare, guardate un po' ragazzi Ho preso una cassaforte Goblin 8 ore Però ci mettiamo Ci mettiamo scorte Goblin che ci mettiamo 3 ore Poi stasera ci vado a mettere Visto che siamo nel pomeriggio ci mettiamo quello da 12 ore Che si sbloccherà nella notte Intanto andiamo a fare anche qui le donazioni Ammesso che ce ne siano, no ci sono solo scambia Posso dargli quello e prendermi il Piro Tecnico Piro Tecnico Piro Tecnico C'è già mille Posso già migliorarla Quindi no Niente Andiamo a richiedere la nostra Valkyra Che la vogliamo portare al livello 13 Che scattiamo qui Oro più Goblin Abbiamo una ricompensa qui ancora Un bel baule Vediamo che ci dà Scheletro Gigante Riscattiamo anche sta Corona Ancora un baule Vediamo Barile Goblin Buono Beh con questo direi che siamo a posto Andiamo a fare Questo torneo doppia evoluzione Creiamo il nostro mazzo Allora Torneo doppia evoluzione Con Valkyra Ci mettiamo Voi direte Ma che cazzo Però Noi ci mettiamo Le Recluter Royale Se le troviamo Come seconda carta evoluta Eccole qua Oh Perché non la usa Ok Recluter Royale Valkyra Poi Mongolfiera Guaritrice Guaritrice Mangolfiera Guaritrice Sgargio Anche questi sono utili Principessa Vediamo E' la furia Furia Oppure La furia Oppure una struttura difensiva La furia Oppure una struttura difensiva Quindi andiamo a beccare Entrambi Entrambi i fattori E andiamo a metterci Il boscaiolo Sì Proviamo a farcela così Vediamo Partiamo dietro Con principessa Prima Quasi quasi Ci mettiamo Proprio una bella Valkyra E la guaritrice Vai Va bene Va bene Va bene Va bene Vesco Le Royale In fondo Poi combo Scagliolo Subito E incitessa Buona Perfetta Non ci vuole La partita Subito Buono E ora Il lato a destra Rimaniamo scoperti Per fortuna Reggiamo bene Guarditrice Vediamo se riusciamo La grande con gli sgherri Peccato la guaritrice Peccato la guaritrice Peccato Riusciamo a beccare il mago Forse sì Adesso con le evoluzioni Vai con le regole Di dietro Boscaiolo E mongolfiera Adesso Attenzione Attenzione Boscaiolo Mongolfiera No 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 Fa fira E guaritrice Alla grande No No Aia 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 lo spagnolo mamma mia lo fermo all'ultimo ragazzi ce l'ho mamma mia che vittoria mamma mia che vittoria ragazzi prima vittoria quella prima partita sfortunata grande vittoria questa all'ultimo secondo ragazzi siamo rimasti in vita quindi prima vittoria andiamo subito a fareci la seconda seconda partita partiamo subito con questo è questa mostagliolo questo qui mostagliolo è un mongosiera guarditrice no eh sì subiamo clamorosamente guarditrice è bene aspetto non si pesca dietro ma non so come la vedo questa partita molto troppo troppo difficile ragazzi si sa il giudice di volo correre siamo un po' in difficoltà sinceramente in questo inizio di partita dobbiamo usare le regole dietro non so come non so come come giari sbagliati su giari sbagliati su ragazzi GERDI VALDEBUSCHI vai grande difendiamoci così è buono è buono dobbiamo andare così è buono è buono basta l'uovo di qua no cazzo non è fincilla che una cosa non è fincilla che una cosa non è fincilla che una cosa però riusciamo a prenderlo attenzione riusciamo a prenderlo con la nostra valpira vai no 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 il tecca il tecca cazzo noi siamo andati secondo la cita ci va male se la giochiamo però ci va male inizialmente è troppo pesante il nostro tecca a doppia velocità andiamo bene quindi ci dovremmo fare qualche modifica ci dovremmo fare qualche modifica per alleggerire un po' usiamo questi sgherri alleggeriamo un po' il deck andiamo così andiamo con la terza partita una vittoria e una sconfitta per il momento subito subito reclute dietro vai col bostaiolo inizialmente sarebbe stato buono usare una mungoschia adoro ah si iniziamo col tira su perfetto quindi questa vedi già con quei due di elisir con il cambio sgherri sembra andare meglio adesso erano già le evolute adesso ci mettiamo la cura con la guaritrice vai qui e qui da qualche parte sgherri vai si fa dura si fa dura per una sua corsaria buono prendiamo la prima la battuta la prima è però non è detto perché continua a reagire il nostro e adesso ci sono bel contrattacco che riusciamo a contenere fortunatamente è non è è il è il è ahia! ahia! eh si eh! grande valpira! una grande valpira! ma con la guardrice, se ce la facciamo, ce la facciamo! se non ce la facciamo, infatti c'era la mongolfiera come colpo di grazia quindi andiamo con due vittorie e una sconfitta andiamo avanti terza partita ragazzi, quarta partita scusate con due vittorie e una sconfitta questa è la quarta partita Boscagliano dietro subito avanti principessa eh si eh! è mongolfiera dietro partiamo proprio così adesso prendiamo subito e becchiamo quasi la torre grande però subiamo di conseguenza aspira salvo cito prendiamo comunque vantaggi con questo stacco ecco recluter royale guardia trisia la torre e poi avendo un principessa nel mezzo e poi la torre si rivela si rivela l'alchira quindi, bostagnolo mongol fiera, mongol fiera, mongol fiera clamorosa, mongol fiera clamorosa, e mi vado a riprendere la torre andando a fare un po' di danni anche la, e adesso abbiamo da utilizzare le nostre reclute evolute con valchira e guariglice, valchira ma subito guariglice dall'altra parte, bostagliolo nel mezzo la principessa che è sempre utile un'altra valchira di qua, un'altra guariglice sempre qua quindi bostagliolo, principessa, giovetti, quasi già ora eh dobbiamo mettere le reclute subito ora guarda ma ancora una guariglice, incredibile e tira di lato non si riesce a dietro si rivela, eh eh, si rivela molto difficile questa partita ormai come andiamo a subire no due ritori, due sconfitte due ritori, due sconfitte direi che può terminare qua per il momento il video per la prima parte finisce qua ci vediamo nel prossimo video bella a tutti ciao ciao